Come affrontare tempi di crisi? Come attraversare momenti particolarmente difficili? Queste sono domande che riguardano la nostra vita personale, ma riguardano anche quella professionale. La risposta a queste domande ha a che fare con una qualità umana che poi si manifesta in qualsiasi settore. La resilienza. Di resilienza parleremo in questo corso online. Ci occuperemo di capire che cos'è esattamente, come funziona, quanto dipende dalle caratteristiche individuali, quanto si può coltivare, quanto dipende da un ambiente favorevole. Insomma, ci preoccuperemo di andare a capirla meglio e soprattutto insieme attraversare diversi contenuti, soprattutto con esercitazioni individuali, in modo da poter riflettere su di sé e poi in più preoccuparsi di capire come stimolare questa importante qualità umana anche nei propri allievi. Parleremo di fattori di rischio e di fattori protettivi. Andremo a capire meglio come la resilienza ci consenta di attraversare, non senza dolore o senza fatica, con fatica, con tante emozioni, ma ci consenta comunque di attraversare queste fasi difficili, in modo da uscirne trasformati anche in modo positivo. Sembra difficile, eppure è possibile. Per questo ne parleremo assieme e assieme faremo un pezzetto di strada. Vi aspetto.